Allora lo salutiamo, welcome, i giornali parlan di lui nel mondo perché lui è estremamente critico, vuole la trasparenza sui vaccini anti-Covid. Allora lo salutiamo, welcome, buonasera, benvenuto, welcome to our program, Mr. Kennedy. Thank you for having me. Buonasera, grazie per avermi invitato. Allora, in Italy we have what we call Green Pass. Abbiamo quello che si chiama in Italia Green Pass. Do you think it's an attack on democracy? Pensa sia un attacco alla democrazia? In realtà la cosa che è più brutta è che le persone nel mondo non sanno avere la sicurezza perché non capiscono quello che sta succedendo nel mondo. Il problema è che la risposta che è stata data alla pandemia non è stata una risposta sanitaria, è stata una risposta quasi militare. Quello che si è visto in giro è stato un dibattito che è stato tagliato freddamente. Ci sono delle persone che quando parlano e dicono la loro verità vengono emarginate, vengono paralizzate, bloccate. E questo chiaramente porta a una polarizzazione, a un sentimento, a una sensazione di perdita della democrazia. Ci sono tante persone che hanno perso fiducia verso quelli che dovrebbero essere al comando della nostra nazione. Ecco, scusi, scusi Mr. Kennedy, lei però ha detto, proprio per questo, rilacciandomi a quello che sta dicendo, che molti governi hanno usato la pandemia per creare, imporre delle istituzioni che avevano una finalità, creare obbedienza. Ma allora a chi conviene, secondo lei, tutto questo sistema? In realtà la domanda è semplice, sembra che gli interessi qui vadano dove ci sono i soldi. Pfizer, altre aziende, hanno appunto annunciato la settimana scorsa che ci sono stati 93 miliardi di investimenti nel mondo dei vaccini durante l'ultimo anno. Pensiamo per esempio ai miliardari del mondo, Zuckerberg, Bill Gates, tutti coloro che stanno comunicando e che stanno controllando le nostre comunicazioni hanno fatto centinaia di miliardi di dollari, facendo chiaramente il loro lavoro, facendo il controllo dell'informazione, eccetera. C'è stato sicuramente un impoverimento della classe media e, ironicamente, ci sono delle persone che ci stanno guadagnando mettendo una censura sul nostro dibattito, sul dibattito libero, sulla libertà di parola online. E queste sono le persone che anche decidono le politiche. Ecco, in Italia siamo ormai all'80% e oltre con la doppia vaccinazione. Negli Stati Uniti il dato è fermo a circa il 58%. Sono quindi tanti a non fidarsi dei vaccini negli Stati Uniti. Lei si fida dei vaccini, di questo vaccino? In realtà penso che nessuno abbia i dati necessari per rispondere a questo. Quello che dobbiamo capire è che il vaccino sta facendo più male che bene. Quello che si sa adesso è che nessuno neanche più dice che la vaccinazione blocca la trasmissione. Quindi sembra che la vaccinazione non abbia potere di bloccare la pandemia. Una cosa che ci è stato detto fin dall'inizio è che la vaccinazione serviva per proteggerci e per proteggere le altre persone. Ora si dice che non serve più a proteggere gli altri. Quindi perché ci fissiamo sul far sì che le persone si vaccinino? Infatti se guardiamo il vaccino Pfizer ci sono stati i trial scientifici chiaramente ma le informazioni che Pfizer ha dato all'FDA americano ha mostrato che delle 22.000 persone che sono state vaccinate durante questo esperimento abbiamo avuto vari morti. mentre nel gruppo placebo sempre altre 22.000 persone ha avuto solo 14 morti. Quindi questo significa che c'è stato un 28% in più di incremento delle possibilità di morte per una persona vaccinata rispetto a una che ha assunto placebo. Questo secondo me non sembra una cosa molto promettente, no? Ecco, ma lei sa che quando parla così i suoi critici dicono che lei si avvicina molto ai Novavax? Io so che lei si arrabbia ma i suoi critici lo dicono. Penso che chiaramente questa sia una strategia. Le grandi industrie farmaceutiche vogliono mettere in silenzio le persone. Io non sono un Novavax e penso che nessuno però possa o debba essere obbligato a un trattamento medico o a una medicina che non vuole assumere. Secondo me abbiamo tutti il diritto di avere delle medicine o dei vaccini che sono testati in maniera sicura e questo non sta succedendo. E' questa la cosa a cui io sono contro, non il vaccino di per sé. Senta, però lei è stato attaccato e anche censurato perché avrebbe diffuso delle fake news. E' vero o non è vero? E' vero che sono stato censurato sicuramente, non è vero che ho promosso fake news, ho distribuito notizie false. Molte persone mi hanno detto che ho fatto male informazioni, ma non mi hanno detto una cosa in particolare che ho detto che fosse sbagliata. Io tutto quello che dico chiaramente lo controllo, lo faccio controllare. Ho in realtà 212 dottori, dottori con il dottorato, che studiano e che controllano tutte queste cose del comitato scientifico. Quindi ogni persona che dice questo non dice il vero, perché ogni frase che noi diciamo prima di essere pubblicata o che pubblichiamo per iscritto è controllata. Ecco, suo padre Robert Kennedy e suo zio GFK, che cosa direbbero di questa sua battaglia che ha un unico obiettivo? La trasparenza sui vaccini anti-Covid. Starebbero con lei? Non voglio parlare a nome di mio padre o di mio zio, però so che entrambi sarebbero sicuramente scioccati, allibiti al vedere e sentire quello che sta succedendo alla democrazia. La Costituzione garantisce la libertà di parola. Questo per loro era un punto imprescindibile, un caposaldo. Adesso viviamo in un mondo in cui le persone non hanno la possibilità di poter farsi domande sulle politiche del governo o farsi domande sul fatto che un prodotto farmaceutico sia giusto o sbagliato e questo è davvero scioccante. Allora, noi la ringraziamo per essere stato qui. Questa sera non è l'arena, la ringraziamo. Thank you very much. See you. Grazie. Grazie a Robert Kennedy di essere stato con noi. Grazie a voi.